Eh sì, io faccio lo scientifico. Come? La tua scuola è difficile? Dovresti provare lo scientifico, allora. Fidati, non resisteresti neanche una settimana. Pensa che noi in prima eravamo in 30 in classe. Adesso in quarta siamo rimasti in 16. Tutti bocciati. Che scuola fai? Non fate un c***o, insomma. Hai verifiche di matematica domani? Su cosa? Cosa? Io sta roba qua l'ho fatta in prima superiore, ma veramente non riesci a capirla. Eh niente, io alla fine andrò a fare economia all'università. Tu?